Roberto Avetta, vice sindaco metropolitano, 50 anni fa un amministratore locale canavesano, lungimirante, aveva fissato dei principi che sono validi ancora oggi. Si chiamava Gianni Oberto. Sì, è stato presidente della provincia, oggi l'abbiamo richiamato e l'abbiamo richiamato volutamente perché la sua visione di rapporto tra montagna e aree urbane è una visione che già allora era molto lungimirante. E in qualche modo oggi siamo nelle condizioni attraverso la riforma legislativa che ha istituito la città metropolitana e gli strumenti che abbiamo a disposizione grazie alla legge del Rio, siamo nelle condizioni forse di poter dare seguito, di dare atto a quella visione che aveva avuto l'avvocato Gianni Oberto, il presidente Gianni Oberto. Quella visione prevedeva un rapporto tra la montagna che fosse bilaterale, cioè la consapevolezza della montagna che Torino è importante, la consapevolezza di Torino che la montagna è un elemento qualificante per questa città metropolitana. Ecco, noi la vogliamo interpretare in questo modo, il lavoro che stiamo facendo va in quella direzione, il supporto che noi diamo alle terre alte attraverso per esempio la progettazione su Alcotra, sui fondi europei, quindi tutto il supporto che noi diamo anche tecnico nei nostri uffici rispetto a questi obiettivi che sono obiettivi fondamentali in quanto la peculiarità della città metropolitana di Torino con queste terre alte al suo interno fa sì che noi diventiamo una città metropolitana che è un unico a livello europeo e io credo che questo sia un elemento qualificante da un lato per noi ma un elemento che ci metta nelle condizioni di poterci giocare davvero una partita importante sul tema dei fondi europei, lo stiamo facendo. Una città metropolitana governata in prima persona dai sindaci, questo è un elemento in più per progettare meglio delle iniziative per la montagna? Sì, questa è un'opportunità in più, quelle a cui faccio riferimento prima, quelle novità legislative a cui faccio riferimento prima, dobbiamo assumerne la piena consapevolezza, questo è uno sforzo che dobbiamo ancora fare, abbiamo fatto molti passi avanti, l'anno scorso siamo partiti da un anno come sapete, l'anno scorso a quest'ora non avevamo ancora maturato il grado di consapevolezza a cui siamo arrivati oggi però credo che i sindaci anche questa mattina abbiano dato un importante contributo a far sì che in qualche modo abbiamo costruito normativamente la città metropolitana oggi la stiamo costituendo anche nella cultura, nella percezione dei nostri amministratori e conseguentemente anche dei nostri cittadini.